Ma cosa fa, dottore? Ma cosa, ma cosa mi vuol segare? Ma che ha capito? Io ti voglio segare quel quintale di corna che c'è in testa! Domenico, Domenica, hai visto che c'hai Andrea? Dove vai a dormire? In camera mia? No, no, hai detto la stima che va a dormire in camera, non ho detto. No, no, in serio? Sì, dottore, abbiamo detto, è un bambino. Ma che bambino, quello ha già 10 anni, non sta. Questo è il disturbo. Che disturbo? Il disturbo lo fai ieri.